Luca Zanzini Revisore Buonasera. Di cosa parliamo stasera? La scienza è una storia bellissima che merita di essere raccontata e merita di essere scritta e questo è lo scopo della mia generazione come di quelle che mi hanno preceduto Ora, in ambito scientifico quando tu elabori una teoria passi tramite tre fasi in continuazione la proponi e la prima cosa che ti diranno è no, questo è pazzo questa cosa non è possibile non è neanche plausibile è il vaneggiamento di un folle poi mano a mano che accumuli e accumuli prove perché la scienza va avanti tramite prove dicono ma forse potrebbe avere ragione forse va bene forse è possibile arrivata alla fine quando ormai è chiaramente conclamata tutti diranno vabbè sì ma era ovvio l'ha detto lui ma lo sapevamo tutti già da prima ecco un paio di esempi storici per motivarci a non mollare allora evoluzione una delle teorie più famose del mondo prima di Darwin c'era Lamarck prima di Lamarck il nulla veniva proposta, propugnata la teoria secondo la quale gli animali erano quelli sempre stati quelli intoccabili, mai toccati e se provavi a azzardare parola attenzione perché una cella il clero ce l'aveva pure per te senza problemi arriva Lamarck e giustamente nota con gli esperimenti sulle giraffe dice guarda ma ho l'impressione che la giraffa col tempo abbia allungato il collo per necessità di prendere gli alberi più alti perché gli alberi più bassi stavano finendo per il contrasto con altri predatori guarda no questa teoria è plausibile però non lo so fa un po' strano è come immaginare che io andando in palestra poi riesca ad avere un figlio che nasce già palestrato fa un po' strano però è stata la teoria dell'establishment per più di 50 anni dell'amarchismo Darwin rivoluziona questa cosa riuscendo a capire che le variazioni sono casuali e poi la selezione non sceglie il più forte sceglie il più adatto all'ambiente ma non dobbiamo pensare che Lamarck sia stato completamente buttato anzi epigenetica che cos'è l'epigenetica? è l'idea che la tua vita il tuo stile di vita di vivere modifichi l'espressione la tua espressione genetica questa immagine del time molto bella dice perché il tuo DNA non è il tuo destino non necessariamente tutto quello che c'è nel tuo codice genetico sarà quello che ti rappresenterà e rappresenterà poi i tuoi figli e allo stesso modo non tutto è possibile capirlo soltanto dal codice genetico altri esempi Semmelweis febbia per perare Semmelweis è un medico lavora in ospedale e come tutti i medici quando proprio si annoia tanto 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 inizia a leggere statistiche statistiche del suo ospedale e cosa vede? che il suo ospedale ha due piani al piano di sopra nascono bambini ostetriche al piano di sotto le partorienti vengono fatte partorire da medici e uno potrebbe pensare beh il medico più qualificato più bravo farà partorire meglio e cosa nota Semmelweis? quello che vedete in questa curva in rosa è il piano terra quello di Semmelweis mentre quella che vedete più in scuro era quella del secondo piano che è paragonabile a quella di un altro ospedale i casi di morte erano aumentati di tantissimo Semmelweis non riesce a darsi una spiegazione di questa cosa prende in esame tutte le possibili ipotesi forse perché al piano terra passa il prete per dare le benedizioni Semmelweis vieta al prete di entrare non ti avvicinare alle parti orienti non sia mai non va bene Semmelweis prende in considerazione altre cose forse perché sono più esposte alla luce chiude tutto il primo piano non funziona e arriva da questo punto per esclusione togliendo tutto deve restare l'ipotesi che era più semplice che però lui non aveva preso in considerazione l'idea che al piano terra avesse aperto il dipartimento di anatomia patologica e i medici avevano una brutta abitudine in quegli anni facevano le autopsie si levavano le mani con acqua e sapone e andavano a far partorire come se nulla fosse boom febbre, perperare, morte batteri, ovunque Semmelweis intelligentemente dice no allora però fate una cosa non vi lavate più le mani solo con acqua e sapone ed è la seconda linea grigia verticale che vedete ma iniziate a lavarle anche con quello che sarebbe diventata poi la clorexidina quindi inizia a fare disinfezione prima del parto i livelli di mortalità cadono di nuovo a terra ora una cosa del genere Semmelweis dovrebbe essere un salvatore che dovrebbero dedicare le statue nelle città e invece Semmelweis muore a 60 anni in un istituto di gine mentale picchiato dalle guardie perché viene considerato un pazzo un pazzo completo l'establishment medico lo caccia dicendo tu hai fatto una cosa per cui non eri demandato non decidi tu quali sono le procedure nell'ospedale come ti sei permesso di dire agli altri medici cosa dovevano fare gli altri ospedali non lo vogliono perché ormai era una patata bollente nessuno lo vuole Semmelweis finisce malissimo peccato peccato che finisca malissimo quando si stava affermando la teoria microbiotica Pasteur Pasteur ci arriverà per tutte altre vie lo dimostrerà Pasteur avrà la fortuna di vivere in un ambiente molto più aperto dove la sua teoria sarà accettata e infatti immagino che vedete qua si chiama Streptomyces Sky è una cosa molto carina i dipartimenti di microbiologia sparsi per le varie università ogni anno fanno questa specie di concorso d'arte diciamo proviamo a dipingere con i microbatteri bene questo qua è Streptomyces Sky fatto con Streptomyces molto carino questo è una piastra di vetri ora questi sono degli esempi che devono spingerci a fare due cose uno a non mollare perché se non lotti per le tue idee o tu non vali niente o le tue idee non valgono niente quindi se sei convinto di quello che dici se sei convinto di quello che fai portalo avanti fino in fondo e due devono sponarci a ricordare che a volte l'esito non è necessariamente quello che è stato il viaggio la mia generazione la mia generazione si trova in un ambiente medico dove hai 8 mila miliardi di articoli su un argomento fantastico perfetto qualcuno di questi articoli dice la stessa cosa dell'articolo precedente follia hai articoli che si contraddicono sulle cose più basilari di questo mondo quello che tu vorresti fare è come avete visto in questo breve stacco di un animoretti di aprile nasconderti dentro questi articoli e dire guarda io non c'entro niente non lo dico io lo dicono loro prenditela con loro ma colpa non è mia ma non puoi fare questo un medico non può fare questo è una persona di scienza non può fare questo noi dobbiamo ragionare dobbiamo essere critici chi ha lanciato l'allarme sulle pubblicazioni il New England Journal of Medicine dice attenzione c'è una frode nell'epid review è diventato troppo facile pubblicare non ci sono controlli non ci sono supervisioni è diventato pericoloso riuscire a estrapolare un concetto da una revisione bene la nostra generazione come si deve porre sotto questo mondo di vista? in maniera molto semplice pensare in maniera critica che è la cosa più banale e contemporaneamente più difficile da fare a questo mondo perché pensare in maniera critica implica uno sforzo notevole anche sulle cose di base però è l'unico modo per poter trarre conclusioni da articoli già esistenti quindi prendi tutti gli articoli su un argomento scarta quelli che sono chiaramente falsi chiaramente fatti male farlocchi faziosi e da quelli che rimangono tra delle conclusioni l'evidence based medicine che è l'attuale paradigma in ambito medico sta in un periodo di forte crisi per questo motivo perché si è sempre basata sull'idea di noi abbiamo delle pubblicazioni ipsa dixit funziona fallo questo modo di ragionare è decaduto in questo momento perché il mare di revisioni il mare di metanalisi il mare di scrittura in cui viene a trovarsi adesso in ambito scientifico qualcuno è scoraggiante disorientante e questo è pericoloso se ci troviamo di fronte a delle persone ora prospettive per il futuro della nostra generazione roba che non si era mai pensata prima la stampa 3D io ne parlo con anche un po' un po' d'orgoglio perché questo per rifarci è un futuro molto desiderabile veramente tanto perché adesso le protesi sono qualcosa di estremamente limitato di estremamente ferraginoso e non riescono ad essere abbastanza soggettive specifiche per il soggetto noi immaginiamo un futuro dove tu se succede qualcosa hai la possibilità di progettare una parte del tuo corpo che sia fatta di nuovo apposta per te sia proprio fatta su tua misura e quindi tu non abbia il problema di doverti adattare a questa se succede qualcosa ma il problema è uno ed è grande l'uomo si rapporta al corpo umano come un cane si rapporta a un radiatore di una macchina il corpo umano è bellissimo è un orologio senza l'orologiaio noi non abbiamo idea di preciso di come funziona ci siamo fatti un'idea stiamo facendo studi li abbiamo fatti saranno fatti però è un'idea non è la realtà è un modello e quando qualcuno ha un problema noi cerchiamo di riportarlo al modello che abbiamo le cure cambiano tantissimo un infartuato 50 anni fa avrebbe avuto un trattamento totalmente diverso da quello che è ora e questo ha una motivazione perché la scienza deve essere in evoluzione la variazione di pensiero fra una generazione e l'altra deve essere costante altrimenti è immobilismo però cosa possiamo fare per migliorare la conoscenza che noi abbiamo bene questa è un'immagine bellissima presa dal Connection Project che cos'è? è un progetto che dice va bene allora noi abbiamo il cervello umano bello non è che abbiamo capito proprio tanto bene come funziona immaginiamo di vederlo come un super computer con una serie di fili che collegano le varie parti bene come si può schematizzare questo? il Connection Project si occupa di questo immaginare tutta la sostanza grigia che si trova all'interno del sistema nervoso collegata le fasce di sostanza bianca come se fossero dei fili che collegano computer quello che vedete qua è le connessioni dell'encefalo in rosso e verde le connessioni fra i due emisferi e in blu i fasci piramidali che si occupano della motilità questa è una prospettiva futura perché riuscire a capire di più su come funziona il corpo umano è fondamentale per riuscire a migliorare poi la cura e questa è roba che la generazione antecedente alla mia non vedeva neanche lontanamente possibile visto che tutti gli studi di neurologia non erano studi di neurologia funzionale cioè su come funzionavano le cose ma erano studi di neurologia più che altro anatomici quindi su cosa si riusciva a vedere dalle dissezioni e ci ha portato a fare una serie di errori clamorosi negli anni passati e questa è una cosa che la mia generazione non deve fare ora un attimo di prevenzione sulle vaccinazioni le vaccinazioni sono fondamentali le vaccinazioni sono obbligatorie e più uno stato è civile più dovrebbe aumentare il numero di vaccinazioni obbligatorie io vi dico questa cosa perché trovo vergognoso che in uno stato come il nostro sia permesso un così drastico calo di vaccinazioni perché questo drastico calo di vaccinazioni può portare a casi come è successo l'anno scorso di bambine morte di ipertosse che in questo paese non si vedeva da almeno 30 anni e tutto questo perché? perché delle persone erano convinte di saperne molto di più di gente che su queste cose ci ha studiato e a cosa è dovuto questo? è venuta a mancare la mediazione la mediazione culturale sta decadendo non ci si fida più di nessuno piuttosto che fidarsi del medico o dell'avvocato o del commercialista ci si fida in continuazione di internet come se internet per il solo fatto di essere questo gigantesco conglomerato di idee di persone abbia la conoscenza assoluta è fondamentale riportare al centro della discussione l'uomo e l'uomo da intendersi proprio come le persone che partecipano bisogna ritornare a fidarsi affidarsi delle persone che è fondamentale perché altrimenti i casi che possono succedere è questo inoltre la vaccinazione è fondamentale per un altro motivo se più dell'80-90% della popolazione è vaccinata verso una malattia succede un fenomeno bellissimo che si chiama immunità di greggia per cui se una persona dall'esterno arriva con una malattia non trovando nessuno sensibile a questa malattia perché sono tutti vaccinati non riesce a trasmetterla e quindi magari una persona che non può essere vaccinata è protetta una persona che è immunodepressa e non può essere vaccinata un bambino che è troppo piccolo e non ha ancora fatto le vaccinazioni può essere protetta e deve essere protetta la vaccinazione deve essere un obbligo sociale e non medico verso le altre persone verso le fracce più deboli della società e questo è un impegno che noi dobbiamo avere forte perché è dove l'attuale establishment sta fallendo allora ora parliamo di assuefazione che cos'è l'assuefazione? non riesci più a fare a meno di una droga né abusi in maniera compulsiva fino a quando vuoli giusto? questo è quello che chiunque pensi di assuefazione è quello su cui l'attuale teoria medica si basa per la cura dell'assuefazione e da cosa derivano questi esperimenti? prendi un topolino lo metti in una gabbia gli dai due dispenser uno con l'acqua uno è con l'acqua di una droga prendiamo per esempio l'eroina il topolino si attacca a quello con l'acqua e l'eroina fino a quando non muore di overtose semplice logico ovvio naturale fantastico non è vero perché l'uomo non vive in una gabbia l'uomo è un animale sociale l'uomo vive con altre persone come possiamo riprodurre l'uomo? non possiamo iniziare a mettere persone all'interno di una gabbia gigantesca? bene l'esperimento di Rathbark che è stato fatto è stata una cosa fondamentale sotto questo punto di vista cosa si è fatto? si è messo tanti topolini anche di sesso diverso hanno bisogno di svagare anche loro tanti giochi qualcosa che riproduca al meglio l'ambiente di vita in cui normalmente vivono le persone perfetto cosa succede? che nessuno dei topi utilizza compulsivamente il dispenser con la droga nessuno di loro ne fa abuso nessuno di loro smette di vivere in società per utilizzarlo questo deve cambiare il modo in cui noi parliamo delle droghe che è un problema sociale non un problema medico immaginate un materiale o dei piccoli robot perché no? che noi inseriamo nel corpo di un paziente magari un paziente che soffre di tumore e questi si localizzano vicino al tumore perché sono stati educati a riconoscere le cellule del tumore e questo ci permette di vederle molto meglio con le tecniche di imaging perché magari questi piccoli robot invece di essere visibili sono opachi ci permette di migliorare la terapia perché che concentrano un chemioterapico in un luogo oppure hanno un'azione litica loro stessi e questo può portarci in futuro a guarigione in situazioni dove adesso un tumore metastatico è una condanna di morte questo potrebbe non esserlo fra vent'anni però per fare tutto questo bisogna crederci questa è la cosa fondamentale in tutto questo crederci contro tutto perché il sistema come abbiamo visto tende a inglobarti tende a preferire un immobilismo che continui con te dentro piuttosto che cambiare lei perché vuoi cambiare tu contro tutti perché tutto rema contro di te tutto tutte le persone di cui ti circondi mano a mano che sali vicino all'establishment cercano di avvicinarti e soprattutto crederci tanto e lottare lottare perché chi lotta può perdere ma chi non lotta ha già perso buonasera grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.